È un momento di grande felicità per il mondo del rugby, per me personalmente aver siglato questo accordo con il credito sportivo oggi apre un futuro veramente migliore per noi, siamo fortemente impegnati nel dare una casa importante alle nostre società in particolare nel meridione d'Italia perché è il problema dei problemi, avere una casa che ti accoglie e che ti dà la possibilità di fare il rugby come deve essere fatto, è la prima base per puntare i risultati per cui ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno collaborato a questo e il Presidente Abodi in particolare e è il primo passo di una lunga storia felice.